Sono state parole di orgoglio e gratitudine quelle scritte dal governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, sulla sua pagina Facebook per analizzare i numeri e l'andamento della campagna vaccinale sul territorio marchigiano. I dati indicati dal Presidente e aggiornati a questa mattina sul portale nazionale relativo al report delle vaccinazioni, sottolineano come le Marche sia la prima regione in Italia per numero di somministrazioni. Sulle oltre 532.210 dosi consegnate, più di 496.000 sono già state inoculate alle categorie a 20 diritto. Uno stop però arriverà a partire da domani per il punto di somministrazione pesarese. I locali dell'ex-Risto, infatti, come annunciato nel fine settimana dai dirigenti ASUR dell'area Vasta 1, chiuderanno per tre giorni, 27, 28 e 29 aprile. Il numero di prenotazioni inferiore a quello ipotizzato, le inoculazioni smaltite in meno tempo e in meno giornate rispetto a quelle programmate, unite ad un rallentamento delle consegne delle dosi, hanno portato dunque alla decisione di sospendere momentaneamente l'attività del centro vaccinale, che riprenderà da venerdì 30 aprile. Non si fermano invece le somministrazioni per i pazienti fragili all'ospedale di Muraglia, così come rimarranno operativi per tutta la settimana anche i punti di Fano e Urbino. Per quanto riguarda i rifornimenti e il numero di vaccini disponibili, l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha comunicato invece l'arrivo, previsto in giornata nelle marche, di 3.300 dosi di AstraZeneca e 5.800 di Moderna, mentre per mercoledì è attesa la consegna di oltre 53.800 Sieri-Pfizer. Sempre Saltamartini ha inoltre dichiarato che probabilmente già nei prossimi giorni verrà aperto lo slot delle prenotazioni per i marchigiani di età compresa tra i 60 e i 65 anni.